La maggioranza purtroppo non discute delle questioni più serie, si occupa invece del referendum o delle norme spot che provengono tutte da Salvini con lo stampino in tutte le regioni in cui la Lega governa. Per cui ci occupiamo di referendum, ci occupiamo di leggi sulla residenzialità, palesemente incostituzionale anche secondo gli uffici, e le questioni più serie invece restano parcheggiate e non le portano all'attenzione del Consiglio regionale. Noi abbiamo firmato quattro proposte di legge, una più importante dell'altra, dalla questione della farmacia, della presenza dei dispensari e delle farmacie sul territorio, alla questione dei rimborsi per i malati che sono stati colpiti purtroppo dai danni relative alle trasfusioni, ancora la legge sulla cultura, alle province il piano neve, delle risorse molto molto importanti, alla questione dell'editoria e alla risposta ai giovani precari per esempio del settore. Tutto è rimasto fermo perché questa maggioranza ha preferito discutere di leggi sulle residenzialità e di referendum e non delle questioni serie che riguardano la nostra regione. Potevamo ovviamente, secondo il regolamento dei corsi termini, mandarla direttamente in Consiglio e qui scatta l'altra tagliola. Siccome non hanno approvato nulla dei documenti del bilancio, entriamo anche nella compressione dei tempi per quanto riguarda un bilancio che nessuno oggi conosce, che nessuno sa, e per la prima volta è arrivato così tardi l'approvazione del documento economico e finanziario della regione. È davvero da sottolineare questo atteggiamento irresponsabile di una maggioranza che non si occupa delle questioni serie, ma si occupa esclusivamente invece delle leggi manifesto di Salvini che sono palesemente incostituzionali. Torneremo ovviamente, perché questo lo abbiamo ottenuto come da regolamento, a discutere di queste priorità che, lo ripeto, sono tutte a firma dell'opposizione, del Partito Democratico e del centro-sinistra. Grazie.